Wow! Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. Ultimamente sto facendo tutti degli show tipo Katelan l'ha fatto, Favij, Yotobi e molti altri. Quindi ho detto facciamolo anche noi. In realtà è a tempo che voglio farlo. Vabbè. Quindi posso dire sigla! Sì, è bellissimo dire sigla! Quindi, sigla! Eeeh, sigla! Sì! Basta! Su Giacca me lo chiederete, quindi sì, la tazza è vuota, gli applausi sono finti. Sì, grazie, grazie. E il microfono è scollegato perché è una lampada. Ogni volta in questo live show arriverà un ospite. Lo intervisteremo, faremo dei giochi assieme a lui, risponderemo alle domande e ci divertiremo. un casino. Se volete sapere nel dettaglio cosa faremo, guardate questa clip. Eeeh, che scoppa! Aita! E. Esatto, ottima idea. F. Fantastico, come fare così? G. Gattuso, sì, gattuso, romano in vitane, guarda. Sì, è una cosa alcunque strana, ma spero mi piaccia. Eeeh, inoltre, cliccate qua, per iscrivervi. Mi siete iscritti? L'avete fatto? Bene, adesso... Musica! L'avete fatto, grazie a tutti. Allora ragazzi, ci vediamo nel primo episodio del Late Show. Ciao! Allora, dovete rimanere in linea per raccogliere un ospite speciale, il mio clone! Arriviamo dopo la sigla! Ciao! Allora, dovete rimanere in linea per raccogliere un ospite speciale.